A chi in questi mesi mi chiedeva ma quale smart ring dovrai comprare? Io ho consigliato in molti casi ring con e quindi sono stato molto contento di avere l'opportunità di provare la nuova versione. Devo dire che questa seconda generazione le novità sono incrementali, che è un qualcosa che possiamo dire star succedendo su praticamente tutti gli ambiti, gli smartphone, i computer, i tablet, domotica, tutto quello che vi viene in mente. Insomma novità piccole, volta a volta abbiamo anche un po' raggiunto un limite. Ecco devo dire che la partenza degli anelli smart è stata molto ripida ovvero da 0 a 100 cioè da prodotti pessimi a prodotti molto molto interessanti e quindi adesso si va a limare e vi anticipo che Ringcon lo ha fatto bene sia in termini un pochino più letterale quindi in termini di dimensione ma anche in termini di autonomia e di funzionalità. Vi dico tutto all'interno di questa recensione, se non volete perdervi altri video come questi ovviamente il consiglio è di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. E quindi eccolo qua, questo è Ringcon di seconda generazione sempre con questo design squadrato, lo vedete mentre invece all'interno ovviamente è perfettamente circolare se non per questa parte tagliata in fondo e per questi due sensori. In basso tutta la sensoristica è all'interno di una protezione trasparente quindi si intravedono i sensori, devo dire che si si illuminano ma di notte non danno fastidio quindi assolutamente bene da questo punto di vista. Questa è la colorazione nera, rispetto alla prima generazione è più sottile di un millimetro, pesa anche un grammo meno quindi due o tre grammi in base alla taglia che si compra, questa è una taglia 9, questa è la sua confezione che è stata ridisegnata e all'interno c'è questo case power bank di cui vi parlerò fra un attimo. Ma voglio mostrarvi qual è la differenza in termini di dimensione rispetto al Ringcon di prima generazione perché la differenza non è affatto trascurabile, non so se riuscite a vederlo così ma due taglia 9 praticamente che dovrebbero essere identici, guardate quanto sporge il bordo del Ringcon di prima generazione, proprio a metterli ancora più allineati sulla destra. Ammetto che veramente non è per niente per niente facile però vedete guardate quanto sporge il bordo della prima generazione rispetto al Ringcon di seconda generazione, ve li faccio vedere anche qui dall'alto, ora sono quasi allineati sulla parte inferiore, insomma è più grande e non è una differenza da poco, Ringcon era già, anche così guardateli, studiateli bene, guardate le differenze se volete mettete in pausa, era già uno degli anelli diciamo più compatti, adesso lo è sicuramente. È ovviamente il P68, resiste ad immersioni fino a 100 metri, è disponibile nella colorazione argento, nera e oro come avete visto sulla scatola, in realtà sulla scatola c'è anche un oro rosa che però sul sito al momento non è disponibile. Questo case è un case power bank, l'abbiamo visto anche su Galaxy Ring di Samsung ma ancora prima proprio qui sul Ringcon di prima generazione, porta USB-C per la ricarica e poi si apre, lo si poggia all'interno, tra l'altro si aggancia, vedete c'è proprio una sorta di magnete, ops, c'è una sorta di magnete che lo tiene in posizione e l'anello va in carica. In questo modo l'anello si può caricare anche se non siete vicino a una presa di corrente. Questa è l'applicazione di Ringcon, non vi farò magari vedere proprio tutto tutto perché non è una rivoluzione rispetto alla versione precedente ma comunque ci sono delle novità, è stata leggermente impaginata diversamente, per esempio non ci sono più i tab in alto ma i tab in alto sono quelli semplicemente del calendario, quindi saltare fra una giornata e l'alto qui scorrendo il dito, oppure tappare sul calendarietto e andare direttamente al giorno che vogliamo monitorare. Molto veloce devo dire tutto il passaggio fra una sezione e l'altra. Scorrendo verso il basso la prima voce che troviamo saltando quella delle anormalità che poi vi faccio vedere dopo perché fa riferimento alle apnee notturne, c'è il wellness balance che se lo tappiamo è un grafico dove vediamo queste quattro voci, quindi i segni vitali, il sonno, l'attività e la gestione dello stress con i dati di oggi confrontati ai dati degli ultimi sette giorni. Sempre in alto poi è possibile andare nel dettaglio di queste singole voci per capire come sono realizzati questi punteggi e capire appunto se questi punteggi sono realistici o meno. Mi sembra che ci siano stati dei miglioramenti, in tal senso non prenderei quel punteggio numerico come un valore assoluto, non assolutamente per buono, ma secondo me è un buon indicatore. Questi sono strumenti che ovviamente non vi diranno se oggi siete stanchi o ieri eravate stanchi. Sì, ve lo diranno, ma non è questa l'informazione che cercavate. Se siete stanchi lo sapete anche da voi, tra l'altro potete anche dare questa informazione come input. Per esempio, qui quando vi svegliate, mettendo un valore di come vi sentite quando vi svegliate, questo per esempio è il grafico con tutte le informazioni del sonno. E devo dire che Ringcon secondo me offre il bilanciamento migliore fra essere uno strumento che ti mette davanti a tutti i dati come sono, quindi anche grezzi con tutti i grafici del caso, oppure, anzi senza oppure, e allo stesso tempo anche darvi informazioni più pratiche su che cosa vogliono dire questi dati. Tutte queste piccole i accanto alle varie voci vi permettono di avere un'informazione chiara di che cosa stiamo guardando. Devo dire che la registrazione di queste metriche è veramente molto molto precisa, come il precedente modello. Vedete molto bene qui il grafico dei movimenti che vi poi rispecchia tutte le varie fasi del sonno, con tutti i grafici, il battito cardiaco, eccetera, eccetera. Andiamo velocemente a guardare anche le altre voci, questo è quello della attività con le calorie, le ore in piedi, l'attività, attività che potete filtrare aggiungendo o meno il sonno all'interno di questo grafico, e anche un riassunto dell'attività che fa un confronto con il giorno precedente, quindi vi fa capire se il giorno precedente vi siete mossi di più rispetto a oggi, vi dà un'indicazione. Poi abbiamo lo stress con tutte queste voci, mi piace molto questi indicatori di mattina presto, mattina, pomeriggio e sera, che vi fanno capire dove si concentrano i vostri momenti di stress, e sul lungo periodo ovviamente questo può essere molto utile. Andiamo qui invece sul battito cardiaco con gli ultimi 30 minuti o gli ultimi 5 minuti, per esempio l'SPO2, quindi l'ossigerazione del sangue, e la variabilità del battito cardiaco. Infine arriviamo alle apnee notturne, che è una delle novità di quest'anno, oltre principalmente al cambio di dimensione e all'autonomia di cui parleremo dopo. La grande cosa da sapere, la cosa importante da sapere di questa funzionalità è che non è una funzionalità che si attiva sempre, a meno che non lo decidiate voi, aumentando il consumo. Oppure automatically monitor once, quindi in sostanza vi permette di andare a fare un monitoraggio automatico ma una singola volta. Oppure premere sulla voce in alto, che vi permette di rianalizzare i dati su tre notti consecutive per avere il dato più preciso. Ovvero questo anello può davvero misurare le apnee notturne, vi dà delle informazioni importanti perché è una condizione che molte persone soffrono ma senza sapere di soffrirne. Non c'è bisogno di attivarlo tenendo lo smartphone aperto, cosa che c'era bisogno prima degli ultimi aggiornamenti. L'anello si è aggiornato e non c'è più bisogno di tenere l'app aperta durante la notte. Fa tutto direttamente l'anello, solo vi consiglia di aprire subito l'applicazione quando vi svegliate come prima cosa perché questa sincronizzazione rapida appena svegli fa sì che il calcolo venga fatto per bene. Perché? Non me lo chiedete a me, perché io sinceramente non ho idea del perché funzioni così. In basso a destra c'è la possibilità di fare esercizio, ancora una volta rimane un prodotto ok, però ecco non lo comprerei per l'esercizio. Ci sono solo quattro sport, c'è un'ottima ragione, non è particolarmente preciso per misurare l'attività fisica. Molto interessanti i trend, perché? Perché vi permettono di utilizzare questi dati per avere una visione più chiara sul lungo periodo. Purtroppo non mi ero accorto che si era scaricato per due notti di fila e qui ho un vuoto, quindi vado alle settimane prima. Ecco qua per esempio una settimana completa e vi permette per esempio andiamo anche sul mese, andiamo per esempio su settembre, ecco qua un mese completo, di avere dei dati sul lungo periodo che sono molto più comodi che averle puntualmente giorno per giorno e gli dà molta importanza RingCon a questo. Una critica che gli faccio è che manda pochissime notifiche tramite applicazione, dovrebbe farlo un po' di più. Sarà anche il fatto che la sincronizzazione avviene quando voi aprite l'applicazione, questo ovviamente è anche un po' il trucco per far sì che la batteria duri tanto, però ovviamente poi il compromesso è che non può mandarvi notifiche per dire è successo questo, è successo quest'altro, perché l'applicazione non lo sa. Tappando qua su in alto avete il riepilogo con lo stato della batteria, quanto dura, la possibilità addirittura di metterlo in modalità aereo, cosa che non ho visto su praticamente nessun altro anello. E siamo quindi arrivati quasi alle conclusioni, vi devo riparlare di questo case perché vi devo parlare dell'autonomia. L'autonomia di quest'anello è stata migliorata, l'azienda parla di 10-12 giorni, secondo me siamo più sui 9-10, però insomma veramente un'ottima autonomia, la migliore fra tutti gli smart ring che ho provato e questo case power bank gli permette di caricarsi per un'altra decina di volte, anche qualcosa in più, permettendovi quindi in sostanza di superare agilmente i tre mesi con, non dico una singola carica, ma senza mai doversi collegare alla presa di corrente per caricare questo case. Quindi voi vi portate dietro questo se vi serve, se viaggiate molto e avete la garanzia che il vostro anello potrà essere sempre carico. A chi consiglio questo dispositivo? Giriamo sempre attorno alle solite considerazioni, questo è un prodotto per chi vuole tracciare il proprio benessere e in parte l'attività fisica, quella giornaliera ma non magari lo sport, senza avere al polso uno smartwatch, senza avere uno smartwatch che magari deve anche essere caricato molto spesso. Non ci sono novità sostanziali nella funzionamento di uno smart ring, ovvero non può inviare notifiche, non vibra, non ha led, non ha display, non ha niente e allo stesso tempo non ha la possibilità di fare pagamenti NFC. So che queste sarebbero state le due domande che mi avreste sicuramente fatto nei commenti e vi rispondo qui. Ma ovviamente i commenti sono aperti, qualsiasi altra domanda fatela pure. Quanto costa questo dispositivo? Allora non ci sono abbonamenti, al contrario di Oura Ring, come sappiamo benissimo, Oura Ring che seguiteci, scrivetevi al canale perché presto andrò a recensire anche quello nella quarta generazione. Il prezzo purtroppo sale rispetto allo scorso anno quando era 280 circa dollari, siamo a 380 dollari, circa un 350 euro. Quindi il prezzo non è più così allettante come la prima generazione, che però attenzione è ancora in vendita, quindi se non vi interessano le novità potete sicuramente comprarvi la prima versione e portarvi a casa un ottimo smart ring. Per me al momento, al netto che non ho ancora provato Oura Ring, ma rimane un prodotto con l'abbonamento, quindi per un pubblico completamente diverso, questo Ringcon va a confermarsi come il miglior anello smart rapporto qualità-prezzo. Anche in questa sua seconda generazione, andando a migliorare un po' di fattori molto interessanti. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, ovviamente sono aperto anche a dubbi e cercherò di rispondere per quanto possibile. Se non l'avete mai fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. E prima di salutarvi, un disclaimer, questo sample di Ringcon Gen 2, mi è stato inviato da Ringcon, che però non ha avuto modo di vedere questo video in anticipo, non ha fornito input editoriale e non ha fornito compenso economico. Noi ci vediamo a un prossimo video.